Mobilità sanitaria attiva e passiva, il quotidiano Sanità, un portale web specializzato, ha reso noti dati relativi a tutte le regioni italiane per il 2016. La mobilità sanitaria è la percentuale di malati, sul totale, che sceglie la regione di residenza o un'altra, non di residenza, per il ricovero. In sostanza, la scelta di dove farsi curare. La regione da cui si fugge di più è la Calabria, maglia nera della classifica nazionale, con un saldo negativo del 20,5% dei ricoveri. In pratica, su 100 persone che vanno in ospedale, 20 calabresi scelgono di andare fuori regione. La maglia rosa, invece, appartiene all'Emilia Romagna, con un saldo attivo del 9%. Quindi non solo gli emiliani hanno fiducia nella loro sanità, ma i loro ospedali attirano anche utenti esterni oltre il punto di equilibrio. Come si classifica il Molise? Presto detto, la nostra regione è a metà classifica, l'undicesimo posto, con 16.595 utenti di altre regioni che scelgono il Molise per curarsi e 18.080 molisani che preferiscono andare fuori. Quindi il saldo in termini numerici è negativo, per meno 2,4%, corrispondente alla differenza di 1.485 malati in più che vanno fuori. Ma in termini economici è positivo per ben 22.640.000 euro. Frutto della qualità e del conseguente costo delle prestazioni erogate dalle due realtà private che attirano i 16.500 utenti di fuori regione che vengono a curarsi in Molise. E parliamo delle prestazioni erogate dai due poli privati di eccellenza, il Neuromed di Pozzilli e la Cattolica di Campobasso. Hanno attirato nel 2016 8.738 campani, 3.435 laziali, 2.660 pugliesi e 1.545 abruzzesi. E il quotidiano Sanità fa proprio il nome del Neuromed come polo d'attrazione per le sue specifiche competenze nella neurochirurgia e neuroriabilitazione. Ma la Cattolica non è da meno con cardiochirurgia ed oncologia. Quindi è bene chiarire che se i conti della mobilità alla fine sono positivi per il Molise con un saldo di 22 milioni e mezzo è grazie solo alla sanità privata, non certo quella pubblica, dove ospedali un tempo rinomati anche fuori regione come Cardarelli e Veneziale sono stati ridotti ad ambulatorio poco più grazie alle dissennate scelte operate da un'aggiunta regionale che ha inteso premiare la sanità privata in termini di finanziamenti e posti letto con un record nazionale, quello del 40% dei posti letto affidati alla sanità privata, di fronte ad una media, sempre nazionale, del 20%. Sanità di qualità certamente, ma comunque risorse e posti letto tolti agli ospedali pubblici molisani.